Radio Radicale, siamo con il Vice Presidente della Camera Ettore Rosato del Partito Democratico per parlare un po' della sua regione, il Friuli Venezia Giulia, che è diventato oggetto di una contesa politica in quanto il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha proposto l'erezione di un muro con la Slovenia per impedire l'arrivo di immigrati. Allora, che ne pensa di questa proposta? Ed è fatto tanto per liberarvi del muro che c'era prima con la ex Jugoslavia, il muro ideale che c'era per esempio a Gorizia ma anche un po' a Trieste e adesso ne vogliono tirare fuori un altro. Una bestialità assoluta, appunto. Abbiamo lavorato in tanti e per tanto tempo per buttare giù quelle barriere che consentono oggi ai nostri figli di andare e di venire dalla Slovenia senza neanche ricordarsi che là, perché non l'hanno vissuto, che là c'erano delle sbarre, c'era un confine, c'erano i controlli, c'erano ore e ore di fila. Oggi c'è un'economia e una vita civile che attraversa Italia e Slovenia con una grande semplicità che costruisce le basi per avere pace, sviluppo, Europa, condivisione di intenti. E reggere un muro pensando che il muro riesca a isolare, a chiudere le frontiere e a impedire il passaggio dei migranti è una vera bestialità. C'è un traffico di migranti che arriva dal sud dell'ex Jugoslavia, che risale dalla Grecia fino a passare per l'Italia e immagino per poi attraversare l'Austria e andare nel nord Europa. C'è questo traffico e qual è secondo lei il rapporto di collaborazione con l'autorità di Ljubljana? Certo che c'è questo traffico ed è un traffico che la Slovenia subisce come subisce l'Italia, perché è un traffico che non nasce dalla Slovenia, ma passa per la Slovenia e che non arriva in Italia, ma passa per l'Italia per andare verso l'Austria e verso la Germania. È chiaro che c'è bisogno di rafforzare le misure di cooperazione tra i due paesi, ma c'è soprattutto bisogno di fare quello che Salvini ha promesso e non ha fatto, cioè di mandare maggiori rinforzi, maggiori uomini, maggiori mezzi a disposizione dei controlli. Non serve reggere un muro, serve mettere quei controlli che ogni paese deve avere dove vuole limitare gli ingressi clandestini. A Salvini invece interessa solo fare sceneggiate sulla pelle dei disgraziati in mezzo al Mediterraneo, nei boschi meno appariscenti del Carso Triestino o del Friuli, quella cosa lì gli interessa di meno perché è meno appariscente e quindi i rinforzi non li ha mandati. Allora, pensa che sarebbe un grave vulnus al trattato di Schengen o una cosa del genere? Sarebbe interrompere il trattato di Schengen, una temporale e parziale interruzione per qualche evento del trattato di Schengen che c'è già stato nel passato da parte di più paesi. Altro è reggere un muro tra due paesi che hanno aderito allo stesso trattato che prevede la libera circolazione. È una follia che serve solo a far parlare noi, purtroppo, come stiamo facendo, di queste cose invece dei problemi veri del paese. E i problemi veri del paese sono che le dinamiche economiche stanno soffrendo, che la pressione fiscale sta salendo, che a prescindere da qualche dato congiunturale legato alla crescita delle partite IVA e degli stagionali, il mercato del lavoro è stagnante. E quindi questi sono i problemi veri di cui gli italiani si devono occupare. Naturalmente c'è questo fenomeno di distrazione di massa che Salvini intelligentemente usa, che si chiama immigrazione, dove non fa le cose che dovrebbe fare, dove hanno cancellato l'obbligo di ridistribuzione dei migranti con gli altri paesi perché l'hanno cancellato con la firma del Premier Conte. E continuano a trovare modalità per o rompere le relazioni con gli altri paesi o aumentare il nostro discredito in giro per il mondo, dove il popolo italiano è sempre stato riconosciuto come un popolo accogliente e invece oggi viene tacciato come quello che arresta il capitano di una nave che comunque, bene o male, stava comunque traendo il salvo delle persone che stavano annegando. E' preoccupato per il decreto sicurezza bis? Ma la fantasia di Salvini non ha limiti, quindi chissà che cosa ci mette dentro. Ma sono tutte misure che servono semplicemente per far parlare di lui. Salvini non si occupa della nostra sicurezza, cosa ha fatto per la nostra sicurezza onestamente, per la sicurezza nelle periferie, cosa ha fatto? Non ha fatto nulla, ha solo assunto provvedimenti che hanno a che fare con la comunicazione, ha messo un po' di cattiveria nella gestione dei migranti, non ha fatto neanche un rimpatrio di quelli che ha promesso di fare, 100 al giorno, ce lo ricordiamo in campagna elettorale, ma figurati se 100 al giorno, nemmeno 100 al mese. Semplicemente troverà qualche altra formula per far parlare di sé, come fanno i grillini, la corsa è tutta una corsa sulla comunicazione. Peccato che il Paese si governa con la sostanza, anche sui temi della sicurezza si governa con la sostanza. Bene, io la ringrazio, ringrazio il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato del Partito Democratico. Grazie. 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 Grazie.